Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto i miei ringraziamenti all'amministrazione comunale di San Lorenzo in campo, al GAL Flaminia Cesano e agli organizzatori di questo workshop che mi sembra arrivare all'anno zero o forse all'anno uno di una costruzione. Siccome il fatto che siamo qua, che la sala sia piena e che ci sia un notevole interesse su questi temi denota il fatto che forse siete partiti con il piede giusto e che forse potete anche approfittare degli errori fatti dagli altri, come guadagna sempre chi comincia dopo. Allora, siccome io rappresento la regione Umbria che ha un modello di valorizzazione dei musei, che è stato il primo sistema museale in Italia a scala regionale, e tuttora rimane quello che a scala regionale continua a funzionare, ma attraverso, come dire, alti, bassi, problemi, diversi momenti anche di svolta. Allora, io ho accettato l'invito che gentilmente mi è stato rivolto di portare qua la nostra esperienza, ma non voglio naturalmente farvi una lezione o delle slide perché servono magari di supporto, ma sono qui anche per rispondere a delle domande o a delle sollecitazioni. Alcune ci sono arrivate da chi mi ha preceduto, al direttore del sistema museale, insomma della rete museale della provincia di Ancona, altre ce le avevo in testa, altre immaginavo le possibili domande alle quali, così, alla Marzullo volevo rispondere, mi facevo delle domande e mi immaginavo anche le risposte da darvi. Perché decidere oggi di valorizzare il territorio attraverso una rete museale, e non solo, sono perfettamente d'accordo con Mangani quando dice qua c'è un territorio intero da portare in piazza. Ci sono già le piazze, però portare in piazza significa metterlo a disposizione, aprirlo e farlo conoscere. Innanzitutto ai cittadini, noi lo diciamo sempre questo, perché pensare che lavoriamo per il turista ci porta forse già in una dimensione, secondo me è un po' falsata. Arrivo a una, poi comincerò magari a far correre qualche numero, qualche altra idea, Noi in realtà, quando dico noi, dico noi addetti ai lavori, noi che ci poniamo il problema, non noi umbri o marchigiani o amministratori oppure studiosi. Dico un pochino tutti noi che dobbiamo, anche semplici cittadini appassionati, volontari, associazioni, eccetera, arriviamo sempre un po' tardi. Arriviamo sempre un po' tardi perché? Perché non conosciamo il pubblico nostro, sia quello attuale che quello potenziale, a chi ci stiamo rivolgendo. E ultimamente mi funziona bene raccontare un piccolo, come dire, particolare, non neanche un aneddoto, sul fatto che noi non abbiamo bene in testa a chi ci rivolgiamo. Abbiamo fatto, non so quante decine, centinaia, migliaia di convegni, di workshop, di libri, eccetera, sulla didattica museale verso le scuole. Per poi scoprire improvvisamente che le scuole, anche grazie ai tagli alle scuole, ai tagli alle politiche scolastiche, le scuole vanno sempre meno nei musei. Perché? Perché non ci sono più finanziamenti per pagare gli scuola bus, per pagare, o anche piccoli interventi demenziali forse, quello di provvedimenti settoriali, hanno poi degli esiti fatali anche sui musei. Quindi il discorso di tagliare la compresenza delle maestre nelle scuole elementari ha fatto sì che i bambini non possano più uscire perché manca il numero, come dire, di docenti autorizzati a portare fuori dalla scuola i bambini. Questo significa meno visite ai bambini ai musei. Quindi tutto quell'impianto anche di impostazione dei musei, di lavoro fatto sulle persone, di competenze che crescono per fare didattica museale verso le scuole, come dire, si è un po' afflosciato e andiamo invece sempre, noi stiamo sempre un passo indietro. Forse questo è inevitabile, forse no, dobbiamo scoprire se possiamo invece buttare sempre un occhio oltre, così come adesso siamo arrivati a pensare alle famiglie con i bambini. Ecco, quello è il settore sul quale, per esempio, nei tagli del bilancio familiare e il settore nel quale si è tagliato meno. I bambini sono meno, ma sono quelli che nella famiglia orientano sempre di più i consumi. Siccome non c'è famiglia che non tende a contentare i bambini, ecco che ci siamo un pochino riciclati verso il discorso c'è un nuovo target, non è più la scolaresca, rumorosa, fastidiosa, che però aveva un impianto all'interno dei musei, abbiamo invece da soddisfare un altro tipo di domanda, è quello del nonno. Quando dico famiglie, è il nonno col bambino, il papà e il mamma con i bambini, il giorno di pioggia dal mare, ma non soltanto, c'è una richiesta che va in questa cosa. Questa è una parentesi, insomma, che di solito arriva in seguito, ma era giusto per entrare in argomento. Io faccio, come dire, piccoli accenni a una situazione che ci vede talmente vicini e che è più o meno conosciuta. Questo lo dico sempre in giro, ma nelle Marche probabilmente potremmo condividere questo tipo di affermazione, il discorso della persistenza, del rapporto tra insediamento e il territorio, tra uomo, natura, il discorso che i musei sono così diffusi, sia nell'Umbria che nelle Marche, che sono il punto di partenza per quella che è la scoperta del territorio. Brandi ci diceva questa cosa delle caselle del gioco dell'oca ed è probabilmente vero per buona parte del territorio italiano, quantomeno dell'Italia centrale. E qui per citare uno dei nostri nomi tutelari, Bruno Toscano, non riusciamo a dimenticarci che il museo è il museo perché c'è stata un'asportazione dal territorio. Quindi quello che è dentro il museo è soltanto un segmento di un racconto e questo racconto, come ci diceva anche Mangani poco fa, continua fuori. Piccolo quadro, 92 comuni in Umbria, questo spiega il sistema a scala regionale. E' una regione piccola, 92 comuni, almeno 60, adesso credo forse siano anche cresciuti perché abbiamo sempre delle difficoltà nei numeri, perché anche dire quanti sono i musei, perché oggi c'è un museo, domani si divide in due perché ha due collezioni, alle volte si accorpano. Comunque almeno 60, questi musei hanno un sito archeologico, un monumento, una struttura che è comunque aperta al pubblico e questi 150 punti di interesse vanno sempre crescendo, perché sempre magari anche grazie ai finanziamenti comunitari si riesce a valorizzare magari una nuova villa, un nuovo parco. Le tipologie naturalmente sono le più varie, le proprietà e lo stato giuridico è anche questo di qualunque tipo. comunità montane sono state abolite da una parte, ma ancora siamo in fase di così, le province ci siamo quasi. Lo sviluppo locale non c'è più. Lo sviluppo locale, adesso aspettiamo le unioni dei comuni, vedremo insomma, chiaramente qua il terreno si muove, non è che ci frana, ma si muove molto spesso sotto i nostri piedi. Rimane la correlazione alle amministrazioni locali, ai cittadini, alle scuole. I musei statali in Umbria sono pochissimi, sono meno di quelli che sono nelle Marche, quindi parliamo quasi sempre di musei locali, indipendentemente dal fatto che questi siano appartenenti all'amministrazione comunale, oppure a privati o a musei ecclesiastici. Gli stessi edifici sono musei per se stessi, degni di essere visitati, anche a prescindere dall'esistenza di collezioni. E quindi a questo punto, che cos'è il sistema museale dell'Umbria? Questa organizzazione è un'organizzazione, lo dico subito, leggera, non strutturata, non ha una personalità giuridica come quella delle reti provinciali marchigiane, è il frutto di una politica regionale che, diciamo dal 1990, ma in realtà nella concezione risale addirittura ai primi momenti nei quali c'è stato il passaggio delle competenze dei musei locali dallo Stato alle regioni. Nell'intuizione di Massimo Montella, che poi naturalmente ha lavorato moltissimo anche nelle Marche, doveva essere quello strumento di azione comune e di aggregazione tra i musei nel quale la regione aveva il compito di fornire, come dire, le dotazioni fondamentali, non soltanto finanziarie, ma anche di servizi comuni, quali la catalogazione, la formazione del personale, eccetera, che dovevano poi portare a un innalzamento della qualità dei servizi offerti dai musei. Al momento sì, parliamo di 120 musei, 120 musei che consideriamo aderenti al sistema museale regionale su circa 150, naturalmente escludendo i musei statali. Ve la faccio breve, quindi non vi racconto l'evoluzione normativa, c'è stata una prima legge del 1990, poi è stato seguito un'altra, cominciamo da prima come leggi regionali, ma insomma la prima legge del 1990 parlava di musei e faceva intravedere la possibilità di aggregarsi in rete creando un sistema museale regionale. Nel 2003 la filosofia è cambiata e si parte direttamente dal sistema museale, già nel titolo della legge, per riconoscere a questo la valenza di strumento di attuazione di una politica di valorizzazione. Sì, questo è forse importante dirlo. Non sono soltanto musei che si fermano alle collezioni, al loro interno, alle attività tipiche museali, ma hanno un forte radicamento e collegamenti con la promozione solo del paesaggio, delle produzioni locali di qualità. Considerate musei che hanno collezioni di ceramica, di tessuti, di beni demo-etno, che quindi sono fortemente legate anche a quello che è l'artigianato artistico ancora esistente o alle produzioni locali. Che cosa fa? Dunque il sistema è un sistema, come vi ho detto, leggero, quindi non prevede una sottoscrizione di quote sociali, tanto per essere chiari, e non esclude assolutamente la possibilità che al suo interno si sviluppino altri tipi di aggregazione. Faccio due esempi. C'è una rete dei musei ecclesiastici che prima informalmente e ora formalmente costituisce una specie di... Avete visto, non so, quando studiano i sistemi, i ragazzini, no? Sono dei sistemi che si intersecano. C'è una quota dei musei ecclesiastici che appartiene, aderisce anche al sistema museale regionale. L'intera rete dei musei ecclesiastici non fa parte del sistema museale regionale, ma alcuni dei musei ecclesiastici aderiscono anche a quella regionale. Per noi non è un problema. Perché? Perché, come dire, c'è un arricchimento. Così come, e questo può essere uno degli spunti che vi possono essere più utili, nove comuni, poi sono cresciuti, alcuni sono entrati, un paio sono usciti, quindi c'è stato un po' di sostituzione, e con la normativa esistente, quindi il testo unico degli enti locali attualmente, hanno fatto una convenzione, una convenzione intercomunale che si chiama Terre Musei dell'Umbria. Non sono neanche territorialmente omogenei, perché ci sono musei che sono anche, anzi comuni, che sono, come dire, al nord, al sud, alcuni in provincia di Perugia, altri in provincia di Terni, e semplicemente si sono incontrati con una volontà comune di convenzionarsi per gestire un unico bando per la gestione museale. E al loro interno poi sviluppano anche attività promozionali o attività di tipo museale che hanno un filo conduttore. Anche per questo, voglio dire, anche questo non è un problema, non solo non è un problema, ma noi come Regione, e qua vengo un po' al tema dei dirigenti regionali, nei quali in parte mi riconosco, anche nei difetti, cioè della settorialità, eccetera, per noi invece il discorso dell'aggregazione in rete è un discorso da premiare. Nei finanziamenti regionali i musei che si associano su base anche non stabilizzata, quindi anche soltanto per elaborare un progetto di valorizzazione annuale, hanno comunque, ricevono dalla Regione, un occhio di riguardo nell'attribuzione dei finanziamenti. Tra parentesi, finanziamenti che sono sempre calanti, però anche in quel caso riconosciamo che il discorso dell'economia di scala e questo è uno dei discorsi importanti, è come già detto chi mi ha preceduto, anche se non è l'unico, però va sempre tenuto presente. L'economia di scala non è soltanto nelle risorse, se compro una cassa d'acqua mi conviene rispetto a comprare la singola bottiglia, non è solo questo. L'economia di scala è anche quella delle risorse umane, cioè c'è una sola magari testa che pensa a un progetto invece di averne due e di faticare molto di più per trovare interlocutori, per proporre progetti, per andare ad operare sul territorio. Ho fatto un po' una fotografia diciamo di un momento di partenza, circa vent'anni fa nel 95 in Umbria c'erano 20 su 28 musei che si dichiaravano aperti, 20 un pochino più attivi e non tutti naturalmente adeguati a degli standard che già non c'era ancora il decreto ministeriale che cominciava a parlare di linee guide, di standard di funzionamento dei musei, però si capiva già che non tutti avevano determinati standard, ma erano in fase di crescita. In quel momento 40 addetti erano impiegati e si parlava di 500 mila visitatori annui nel loro complesso. L'idea era che entro il 96 si aprissero, e lì già incominciavano a esserci finanziamenti grossi che arrivavano anche da quei fondi europei, altri 21 musei, e la previsione era di portare quindi l'occupazione complessiva di questo settore a 100 addetti e a un milione di visitatori. Chiaramente, voglio dire, uno fa delle previsioni e poi la vita ci mette tutto in mezzo, non è andata proprio così, poi sapete che dal 96 al 97 qualcosa è successo, nel 97 il terremoto ci ha dato una bella botta a tutti quanti e ci è voluto un pochino più di tempo, e questo immagino sia in Umbria che nelle Marche. Per noi ha significato, anche se non tutto il territorio regionale era coinvolto nel sisma, comunque gli anni successivi sono anni in cui il turismo in Umbria, che nelle Marche, ha avuto una flessione notevole perché poi la gente non si sente tranquilla e la percezione quella di una regione ferita influisce anche psicologicamente poi sulla propensione alla visita. Però ci è voluto un pochino più di tempo anche perché i progetti si dilatano, perché naturalmente alcune priorità vengono riviste e la situazione è oggi. Come diceva, oggi sono 120 musei del sistema, sono di più quelli che ancora consideriamo in regione aperte e non aderiscono. Io sugli addetti ho, con tutta franchezza ve lo dico, la difficoltà della stima di quanti perché trattandosi di personale non incardinato dentro le amministrazioni tra personale diciamo che parzialmente i comuni mettono a disposizione magari sono degli impiegati, dei funzionari che però si occupano anche di biblioteche o di scuole o di servizi sociali sempre nei piccoli comuni c'è una figura un po' multifunzionale tra esternalizzazioni quindi cooperative o società che gestiscono oppure anche il ricorso al volontariato alle proloque eccetera io diciamo che la stima ai 250 addetti mi sembra realistica. Dal punto di vista dei visitatori vi ho riportato il dato dell'Istat del 2011 la rilevazione che ha fatto l'Istat diciamo abbiamo un milione e duecento poco più di un milione e duecento mila visitatori su un totale di un milione quasi di un milione e mezzo contandoci dentro anche i musei statali le marche nello stesso periodo nello stesso anno stavano sul milione di visitatori complessivo quindi abbiamo quindi un bacino potenziale di utenza leggermente superiore ma insomma siamo lì considerate che negli anni successivi noi abbiamo avuto una flessione non è facile vengo subito a parlarvi di criticità del sistema una grande disparità di livello di strutture abbiamo musei che come dire sono musei a tutti gli effetti non soltanto per dal punto di vista dimensionale quindi grandezza delle strutture numero di addetti impiegati eccetera anche però musei che sono gestiti in modo professionale musei che invece vivacchiano musei che sono aperti stabilmente altri che sono aperti magari solo un giorno alla settimana o a richiesta c'è una scarsa qualificazione professionale questo è fondamentalmente a mio avviso uno dei punti cruciali i musei li fanno le persone io non so se siete d'accordo su questa mia affermazione ma sempre di più dove ci sono persone che sono non solo competenti ma anche appassionate capaci di mettersi in gioco eccetera il museo sale dove le persone hanno un incarico limitato apro chiudo spolvero ogni tanto e magari mi ricordo di fare la domanda alla regione alla provincia alla banca eccetera ma occasionalmente per ottenere i finanziamenti il museo come dire si attesta su una base così di vita di vita così come dire di piattezza non so come dire la qualificazione professionale comunque è il problema e il problema è non sempre di difficile soluzione i bandi per la gestione dei musei le amministrazioni tendono ormai a farle sempre al massimo ribasso e quindi il personale è personale che malgrado abbia titoli universitari titoli di esperienza eccetera non è stimolato a dare il meglio di sé e magari cercherà prima o poi di scappare per andare a fare un altro lavoro la dipendenza dei finanziamenti pubblici ora io immagino che qua sappiate tutti che c'è una grande bugia che gira in Italia la grande bugia è quella che all'estero sì che fanno fruttare i musei no all'estero sì che i musei si finanziano coi biglietti coi bookshop eccetera questa è una grande bugia che ci stanno raccontando da molto tempo e bisogna incominciare forse a far uscire sui giornali che questa è una menzogna all'estero compresi i grandi musei americani i migliori musei compreso il Louvre campano prevalentemente i loro budget sono fatti prevalentemente di fondi pubblici allora è vero che la dipendenza dei finanziamenti pubblici può essere come dire disincentivante rispetto al fatto di cercare risorse proprie quindi aumentare il numero dei visitatori per ottenere maggiori entrate però non si esce da questo l'abbiamo appena sentito dire se in un piccolo comune cerchiamo sempre di diminuire le disponibilità non per colpa degli amministratori anche ieri il sindaco di un comune che investe moltissimo in cultura in Umbria è arrivato semi piangente dicendo stamattina mi hanno tagliato il governo ma tagliato altri 87 mila euro e non so dove battere la testa ed è uno degli amministratori più sensibili rispetto alla spesa comunale e alla spesa in cultura però questa dei finanziamenti pubblici in effetti bisogna capire come facciamo anche perché ancora per un po' abbiamo risorse per nuovi allestimenti o per nuovi musei perché sta partendo la nuova programmazione comunitaria la 14-20 e ancora grazie anche all'impegno che è stato profuso anche dagli italiani per far riconoscere ancora la cultura come elemento qualificante della nuova programmazione europea quindi avremmo ancora qualcosa per per lavorare sulle strutture ma certamente la spesa corrente non ce n'è più la spesa corrente è quella è la grande assente le risorse private per me sono puntini perché non ci sono le folle di mecenati adesso il decreto art bonus vedremo che effetti darà ma insomma non lo so questo è un punto interrogativo sostituirei i puntini con un punto interrogativo in Umbria a parte le banche ma anche le fondazioni bancarie hanno sempre o meno risorse da destinare alla cultura perché contemporaneamente la crisi che colpisce la famiglia la società richiede anche investimenti supplementari a quel punto di vista che cosa possiamo lasciare un pochino di speranza per il futuro e alcune contromisure la prima è una tendenza che mai è in atto e ci vede fondamentalmente come dire molto convinti l'integrazione con il sistema degli altri istituti culturali le biblioteche gli archivi quello è l'acronimo che adesso si dice MAB MAB è un un'associazione tra le associazioni di professionisti dei musei degli archivi e delle biblioteche è un'associazione nazionale che si sta costituendo anche in coordinamenti regionali che significa questo? Significa che effettivamente potremmo incominciare a fare dei programmi comuni e programmazioni comuni tra questi istituti poi c'è una cosa che io chiamo musei multifunzione multipubblico la grande parola d'ordine dell'Europa 2020 è quella dell'audience development non la possiamo tradurre in italiano perché sviluppo del pubblico non dà effettivamente tutti i significati di questo concetto significa che però significa che c'è un pubblico da qualche parte un po' quello che dicevo all'inizio di visitatori potenziali fruitori animatori eccetera di tutti i settori della cultura Europa creativa è un'altra delle parole d'ordine dell'Europa dobbiamo importare la gente a fare cultura e a consumare cultura allora questi musei dovrebbero servire anche a soddisfare queste esigenze e a raggiungere questi obiettivi che sono obiettivi europei multifunzione significa che dentro i musei possono essere fatte molte cose ma non perché dobbiamo farci le conferenze i concerti eccetera dobbiamo anche ripensare possono essere i luoghi dove si fa la formazione specifica dove si fanno o si esercitano alcune altre attività multipubblico e perché noi appunto come le scuole noi abbiamo lavorato dicevo con le scuole moltissimo forse ora dovremmo lavorare con il pubblico della terza e della quarta età sono quelli che ancora hanno risorse tempo volontà e offrirgli qualcosa di specifico così come dovremmo imparare a usare i musei come luoghi dove i nuovi cittadini i nuovi cittadini sono gli immigrati sono quelli che arrivano sui nostri territori e hanno bisogno di imparare tante cose possono venire a imparare a condividere con noi quelle che sono le nostre tradizioni la nostra storia eccetera sono nuove funzioni che possiamo dare ai musei da questo punto di vista anche quello di essere le porte di accesso alla nostra vita allargare le nicchie allargare le nicchie è un altro concetto che bisogna spiegare in due parole la maggior parte dei nostri musei sono musei di nicchia perché si rivolgono a un pubblico non perché sia specialistico come dire l'atteggiamento del museo ma perché hanno magari come dire non sono non hanno i capolavori all'interno o se ce li hanno non sono quelli che richiamano le grandi folle però queste nicchie sono potenti sono delle nicchie che possono essere allargate faccio un esempio in regione abbiamo individuato un settore che è una nicchia una nicchia delle nicchie praticamente è quello dei musei che hanno stoffa cioè musei dedicati a tutto il settore della tessitura del ricamo oppure che sono musei anche tradizionali musei cittadini musei ecclesiastici che hanno all'interno paramenti sacri tessuti eccetera all'inizio sembrava così una cosa un po' un po' inventata abbiamo scoperto invece che c'è un pubblico potenzialmente anzi già esiste un pubblico ma che è ancora più in crescita di persone che sono appassionate anche lì dove gli si offrono corsi di tessitura corsi di ricamo la possibilità di accedere anche all'esperienza e qui veniamo al discorso che sta alla base dell'incontro di oggi questo pubblico aumenta è una nicchia che si allarga piano piano è una nicchia che va verso un settore specialistico e quindi può anche trovare delle sedi inconsuete anche di promozione quindi il settore delle associazioni specialistiche di appassionati di determinate tendenze su ottimizzare le risorse individuali di rete non vi devo dire niente quello che dicevamo prima e sono perfettamente d'accordo con Mangani quante volte io non so a noi capita immagino che capiti anche a voi si vedono le pubblicazioni realizzate una volta dalla regione un'altra dalla provincia un'altra dai Galli un'altra per un'occasione eccetera e poi le risorse sono sempre quelle provare a integrarsi provare a coordinarsi credo che sia innanzitutto uno dei compiti che ci dobbiamo dare come amministratori della cosa pubblica o funzionari della cosa pubblica in modo tale da non disperdere neanche un centesimo di quei soldi stanno diventando sempre più preziosi grazie a tutti